Oggi, venerdì 17 marzo, il presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, ha visitato le zone del centro Italia colpite dal sisma e dal maltempo per incontrare i sindaci e le popolazioni locali. Brunetta è arrivato anche a Tolentino, dove ha incontrato nella nuova sede del comune a Palazzo Europa il sindaco Giuseppe Pezzanesi ed il coordinatore regionale delle Marche di Forza Italia, Remigio Ceroni. Dopo Amatrice, Norcia, siamo qui a Tolentino. Siamo ad ascoltare dai sindaci, da chi è in prima linea, ad ascoltare per poi preparare il nostro lavoro in Parlamento. Siamo al terzo decreto del governo, il governo non ha sentito nessuno, non ha parlato con nessuno, certamente non ha parlato con l'opposizione, chiuso a fare provvedimenti in gran parte inutili. I problemi del territorio sono altri. La semplificazione burocratica innanzitutto, poter fare e non essere bloccati dalla burocrazia. Poter fare presto e bene, senza tanti vincoli, senza tanti condizionamenti. La protezione civile non ha funzionato, il commissario del governo non ha funzionato, le fasi di rimozione delle macerie sono ancora lontane dall'aver risolto i problemi, di ricostruzione neanche a parlarne. Ecco, questo è lo stato dell'arte del terremoto in tutti i territori delle tre, quattro regioni che sto rivisitando per fare questa verifica. Noi saremo molto duri e molto fermi in Parlamento. Il governo ha fallito e il governo ascolti. Ascolti i sindaci, ascolti chi è sul territorio, ascolti il grido di dolore delle popolazioni che si ritrovano senza casa, senza lavoro, senza futuro. Noi siamo qui per dare voce alle popolazioni e per lavorare insieme ai sindaci per ripristinare la legalità e il futuro per questi territori. Ad Amatrice, come Norcia, come Tolentino, come Cingoli, come a Teramo, sarà la nostra ultima tappa. Noi non molliamo, non molleremo mai. Terremo sempre il canale privilegiato di ascolto nei confronti di chi è in prima linea. I sindaci innanzitutto e le popolazioni. Siamo qui per testimoniare il massimo impegno di Forza Italia nei suoi massimi vertici a favore delle popolazioni, delle marche colpite dal terremoto. Purtroppo a distanza di sette mesi dal primo evento la ricostruzione è ancora completamente in alto mare. Oggi la visita di Brunetta significa dire anche a una forza importante, oggi di minoranza, ma ieri forza di governo, che ci sono delle lettifiche da fare anche agli ultimi decreti per quanto riguarda la ricostruzione, nei tempi, nei modi e anche nell'acquisizione del patrimonio immobiliare invenduto che noi abbiamo fortemente voluto e che è stata accettata ma che in realtà, così come è stata partorita nel bando regionale, attesta che non c'è niente da acquistare perché mette dei paletti talmente restrittivi che quello che si può acquistare è quello che praticamente si deve ancora costruire. Quindi non è acquisizione del patrimonio immobiliare invenduto ma è qualcosa di non rispondente. Abbiamo suggerito degli emendamenti anche qui attraverso l'Anci e comunque ci fa piacere anche constatare che il commissario Errani, il presidente della regione Marche e quindi tutto l'apparato che decreta insieme al governo o perlomeno prepara le normative, ascolta e quindi mi auguro che anche questa volta pur essendo imperfetto come spesso accade il provvedimento ci sia almeno l'ascolto sulla fase correttiva.